La malattia invisibile, titolo di questo servizio che mi ha profondamente colpito, a firma della Iena Giulio Corina. La Iena Campana realizza questo prechiato servizio che mi ha profondamente colpito. Un servizio che parla di una malattia che viene spesso identificata come la malattia invisibile. Si tratta della MCS, la quale malattia sarebbe riconosciuta solo in alcune regioni dell'Italia e al momento però non ci sarebbero i finanziamenti per garantire le cure ai relativi malattie, a chi soffre di questa devastante malattia. Insomma, parliamo di una malattia che è presente, è oggettivamente presente in una determinata persona ma che purtroppo riesce a essere per l'appunto curata attraverso la garanzia delle cure. Non ci sarebbero, e sto utilizzando il condizionale dunque, delle garanzie per cercare di curare chi è affetto, chi purtroppo soffre di questa malattia. Sarebbero tutte queste cose che ci dovrebbero far riflettere. Grazie cari utenti, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate se in esso fossero presenti delle inesatesse meno escluso, in quanto chi vi parla non è giornalista, tanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsiasi voglia natura. Grazie a voi tutti e un augurio di buona giornata.